Ciao a tutti, eccoci di nuovo su Infamous Ammazziamo questa gangbang dark belt Come si dice Dai, voglio provare questo approccio Presa non accettata E via E lo scambio è stato interrotto Vieni, chiappamo questo fumo E via Ok, qua c'è quel drone Ehi, che ti sei? Ti tengo sotto controllo Allora, allora, allora Guarda che riflesso Del sole Che sta calando Nel town Nel 100 sotto controllo Del D.U.P. Del D.U.P. Lagi ci sono Vediamo un po', mi è arrivata la mail Intanto Ma non ci interessa perché vedo Qua giù nella mappa Che c'è Un Morales da fare Eccomi Che ha fatto? Chi è che vuole aiuto? Vieni, fai aiuto Vieni a prima di fare Morales Vai Solo perché ho scelto Di iniziare a fare le azioni buone Impugniamo la bomboletta O meglio Il FED In posizione verticale E voilà Poi sarà Riacitiamo Che ti fanno Volete Vanno citate Va Di cinocchiere Di cinocchiere Di cinocchiere E via balla va nemmeno spazio finisci te? bravo ottimo direi graffiti completati qui c'è da libera qualcuno qualche sospetto proprio in mezzo agli agenti come la sensazione che mi abbiano vista non ha quella sensazione leggiata sti cacchio di cerchini vieni sottometti morti? con un bel missile continui? continui? qui c'è uno scanner vieni no tanto si sa che ancora non ho cambiato il dna mettiamoci il dito vieni sempre quello devo distruggi elaborazione si sono ancora un conduit assorbiamo il frammento questo ci vuole 13 frammenti raccolti ok andiamo a vedere cosa possiamo potenziare eccolo qui con 13 frammenti questo è quanto spolpo alla testa quanto 7 frammenti ecco mi chiede il livello karma 3 perfetto quindi non posso sbloccare karma negativo niente questo bomba sul ah bomba sul furia gigante cercavo di leggere una parte piccola invece c'è qui a destra tutto grande perfetto quindi non posso sbloccare altro finché non arrivo a livello 3 niente non è di sbloccare potenziava un frammento ah sal di fumo però lo posso potenziare vieni schianco orbitale asservi diamo uno a tutti dai ma si vieni spagnamoli così questi frammenti proseguiamo eh cosa c'è qua giù qualcuno si ha bisogno della mano vieni meno male qualcuno è contento ah un altro no è qui ho vista adesso tu è qui ma vai mi regira e fanno sempre ok volevo appunto andare a far fuori queste camere una qua su questa via ok eccola 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 tutti i guardoni qualcuno urla bisogno di una mano che bene nessuno quindi andiamo dove so scappate maledetto il cristallo assorbendo il cristallo liquido no dagli maledetto dai prendi sto frammento non so nemmeno sempre di stallo cosa voglio fare no questo voglio oh via mori viene una crostata a te qui c'è una qua c'è una telecamera da distruggere sento la sento suonare dov'è è per qua è per qua e non la vero associata potazzi mi risultava ah eccola lì si vieni mori resa qualche qualche altra della band che devo la band che devo far fuori cristalli i frammenti insomma la miseria ma qui c'era una porcina una frammentaria questo per rimanere in tema dei funghi sul tetto qualcuno ecco le quindi dice che c'è un traffico losco in circolazione no quella è una eccolo ah no era una non era maledetto te sottometti vieni dove siete dove siete adesso abbiamo un po' di fuimos qua allora per qua c'è un'altra telecamera bene bene siamo al 73% del controllo di questa zona abbiamo passato mori qua c'è qualcosa di segnale sempre blu che da volentare livello un gatto bianco facciamo un gatto bianco ma ma la merica è un po' la sfortuna è un po' la sfortuna è un po' è un po' ok 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 punto blu o blu qua su qua su qui ah no allora proviamo andassù Eccolo il drone Su Ma t'ho sparata Posso spararla Ho cambiato Quattro quartiere Per sempre il 94% Allora provando a dirà 96% Però l'obiettivo è di qua Però aspetta 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 vedo Che c'è qualche sospetto sempre Rinchiuso Ecco ma allora Vieni Beccati estomissime No l'ho padellato Vieni Ah eccolo Bello schiantonante Tuffo Dai Frammento L'ho fatto anche in azione rossa Però l'ho fatto fuori Ok Qui c'è qualcuno da liberare Era qui No ho fatto fuori tutti Ho fatto praticamente fuori tutti Mi dispiace Ma non me l'aspettavo Mannaggia Qua c'è La zona Oppuscate Nei vari ripetitori Vabbè intanto facciamo il graffito Continuo a arrivare le mail Non posso disturbare la mia arte In questo momento C'ho da disegnare Prego mondo Ok Eh basta Con queste mail Allora continuiamo invece a giocare Scusate l'interruzione Ecco M'hanno visto Ho quella sensazione che m'hanno visto Da dove spari Te fossino Ma però approccio un A fuoco crociato Ma recuperiamo le forze Ho bisogno anche di un fumo Per ricaricare i missilini Dei cattivesti Ciccio Dio Faventi che musica Mori No, è cappaletta, non l'ho visto Fatti, quello Fumo, fumo, fumo Catene, catene, catene Vai Eppigni Maledetti Condotti d'aria, per favore Che devo andare sui pezzi a raccattare del fumo Eccola Ecco, magari ha sbagliato Ma perché mi piglia Ah no, questo non è bell'aria Oh, l'ha fatta fuori Dovrei dare ricaricare Ah no, ancora Eh sì, però Sì, sullo sparo no Ma su missisi Sì 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 Sì